Venendo dai Castelli Romani fate riferimento ad Albano Laziale. Percorrete per 4 km la via del mare fino al semaforo della via Nettunense. Girate a sinistra verso Anzio e dopo 300 metri al primo bivio, girate a destra su via dei piani di Monte Savello e seguite la nostra segnaletica, nei pochi metri che vi mancano, per raggiungere il nostro nuovo centro a sposi.